Condivise le linee di un accordo che consentirà nelle prossime settimane di riprendere la celebrazione delle messe con il popolo. Lo afferma il presidente della CEI, il Cardinal Bassetti, che sottolinea il mio ringraziamento, va alla presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui in queste settimane c'è stata un'interlocuzione continua e proficua.